Amici del Capoluogo, questa mattina come vedete alle mie spalle siamo alla scuola Giovanni XXIII, parliamo di diritto all'istruzione, naturalmente un diritto inalienabile che vale per tutti e siamo qui per raccontarvi la storia di Melissa, siamo col suo papà Roberto, grazie. Buongiorno. Avete già letto qualcosa sulle nostre pagine? Buongiorno, questa bimba con disabilità costretta ad aiutarsi con una sedia a rotelle per venire a scuola, c'è un problema che abbiamo già affrontato, il problema che il papà Roberto non può entrare in questo cancello che vedete alle mie spalle e deve lasciare la macchina al parcheggio qui davanti, quanto c'è parcheggio naturalmente, e con la carrozzina entrare a scuola. In una giornata come questa, benché fredda, è un sacrificio che il papà fa volentieri, il problema però si pone quando c'è brutto tempo. signor Roberto, innanzitutto facciamo capire quali sono le difficoltà che un bambino normale prende l'ombrello a scuola e non ci sono problemi. Naturalmente la vostra quotidianità è diversa? Molto diversa, sì, cioè Melissa purtroppo, ripeto, sta sulla sedia a rotelle, quindi si spinge da sola e non può portare l'ombrello, non riesce a portare l'ombrello per l'invalidità che ha, quindi dovrei spingere io Melissa, portare un ombrello io, portare il peso dello zaino dietro e tutto questo col tempo di pioggia, neve e quant'altro è impossibile. lasciare la macchina poi a 50-60 metri e fare il tratto a piedi. Ecco, ma diciamo, fino all'anno scorso era consentito entrare alla scuola, arrivare vicino all'ingresso, quindi far scendere la bambina e accompagnare la scuola normalmente senza nessun tipo di problema. Poi cosa è successo? Allora, Melissa sono sette anni che frequenta la scuola, quindi non è una situazione nuova, abbastanza nota e siamo sempre entrati con la macchina fino al portoncino della scuola, proprio per il problema che c'è. Da ottobre mi è stata negata questa autorizzazione, non solo a me ma anche a scuola a bus e il personale della mensa per una sicurezza dell'infrastruttura. Ricordiamo che naturalmente il tutto si è verificato a seguito del terribile incidente accaduto all'asilo primo maggio dove ha perso la vita il povero Tommaso di soli 4 anni, per cui diciamo che le misure di sicurezza sono state magari un po' estremizzate con la decisione di chiudere i cancelli e non fare entrare più nessuno motorizzato all'interno della scuola. Però questo naturalmente ha prodotto queste difficoltà che ci diceva. Sì, esattamente questo. Per un problema, poi mi sono ritrovato io con un altro grosso problema che già la vita non è facile, quella di tutti i giorni, in più ci si mette anche questa mattina e pomeriggio. Con il traffico, con le macchine che ci sono comunque, trovare un parcheggio libero, sta a 70 metri, un parcheggio per disabili. Certo, immagino che ci sono state delle interlocuzioni sia con il comune che con la scuola. Cosa è successo? Abbiamo fatto, sì, ho fatto un incontro sia con la dirigente che anche con gli assessori del comune, tutto un rimpallo di responsabilità tra dirigenti e comune, fino alla scorsa settimana in cui hanno fatto questi nuovi posti auto. Ecco, intanto avviciniamoci, andiamo a vedere questi posti auto che sono stati realizzati, mi dica. Sì, sono stati realizzati questi posti auto, ma comunque sia il disagio rimane, rimane perché comunque sia è lontano dal portoncino d'ingresso, la strada comunque sia è dissestata per arrivarci. In giornate normali va bene, ma in giornate come quella di pioggia no, è impossibile. Ecco, quindi vediamo qui con le immagini di Daniele gli stalli riservati alle persone con disabilità, ma vediamo, abbiamo fatto già diversi passi, vediamo dalle immagini il cancellino, il cancello d'ingresso è là in fondo, ma non è finita perché dal cancello all'ingresso c'è altra distanza. Altra distanza, sì, altra distanza. Quindi sostanzialmente, nonostante la buona volontà del comune che ha predisposto questi parcheggi, il suo problema non è risolto, nel senso che quando piove, anche se parcheggia qui, le difficoltà sono le stesse. Il problema non è risolto, il problema, cioè gli stalli li hanno fatti come era giusto che sia fare degli stalli vicino all'ingresso delle scuole, il problema è che quando andrò alle medie, l'anno prossimo, che Melissa entra alle scuole medie, non c'è parcheggio per disabili a tutt'ora. Ah, quindi? Anche lì cominceremo una nuova battaglia, scusate il termine, però è così, perché anche lì dovrò fare richiesta, io come cittadino, di un posto per disabili vicino alla scuola? Non mi sembra corretto. E nella nuova scuola, al di là dei posteggi che potranno essere previsti, ma si riproporrà lo stesso problema, nel senso che se non permettono alle auto di entrare nei cancelli, il suo problema non sarà comunque risolto? No, non sarà risolto, perché comunque sia che devo parcheggiare a distante, farmi il tratto a piedi, come avviene qui. Vuole lanciare un appello alla dirigente scolastica, agli uffici regionali preposti, non so chi potrebbe a questo punto cambiare questa regola? Guarda, l'appello che faccio io è di metterci veramente la buona volontà per risolvere questo problema, ma veramente sia a dirigente che agli assessori del comune, cioè chi fa il proprio lavoro, perché altrimenti gli faccio vedere io come si vive con una persona disabile dentro casa tutto il giorno, cioè aggiungiamo anche questi problemi, non è giusto secondo me. Soprattutto non è giusto affidare al caso, al tempo che fa la frequenza scolastica di tua figlia. Guardi, io sinceramente da ottobre a questa parte, io mi affacciavo la mattina, aprivo la tapparella e vedevo, c'è il sole, è bene, Melissa può andare a scuola. Oggi piove, Melissa sta via a casa perché non vuole prima di entrare alla scuola e anche il diritto allo studio secondo me va garantito a prescindere, cioè non si può dipendere da una giornata di studio se piove o non piove nel 2023. Allora ringraziamo Roberto per questa testimonianza, sperando che la futura istruzione di Melissa non sia affidata al meteo, qui dalla scuola Giovanni XXIII è tutto.